eccoci qua di nuovo se vi siete persi il video precedente lo potete andare a recuperare ma ve lo lascio anche qui sopra e anche sotto nel primo commento era un video tutto dedicato agli alimenti light e oggi invece andiamo a parlare dei grassi quindi andiamo all'estremo opposto anticipo visto che spero che arriverete alla fine di questo video ma nella più brutta delle ipotesi che non ci arriviate vi chiedo di lasciare il like per supportare il mio canale iscrivetevi anche al mio canale così rimanete aggiornati su tutte le novità e mi piacerebbe anche ricevere un vostro commento perché a mio parere la condivisione è la forma migliore anche di apprendimento quindi torniamo a noi abbiamo molto di cui parlare e infatti oggi parliamo di grassi perché appunto stavamo parlando degli alimenti light e soprattutto dell'obiettivo principale della scelta di questi alimenti spesso e volentieri è quella di dimagrire ma in alcuni casi potrebbe essere anche quella perché si ha l'impressione di mangiare meglio beh mi sento di aprire poi una piccola parentesi quindi proprio sui grassi che sono tanto demonizzati i grassi che provengono dagli alimenti sono importantissimi per il corretto funzionamento del nostro organismo basti pensare che sono fondamentali per la protezione degli organi cuore in primis i grassi sono indispensabili anche per la coagulazione del sangue e per il buon funzionamento del sistema cardiovascolare e immunitario quindi se sono di qualità hanno un ruolo limitato nell'aumento di peso proprio per questo motivo bisogna saper scegliere quelli giusti partiamo quindi ad analizzare tutte le tipologie di grassi partiamo da quelli saturi sono quei grassi che si solidificano a temperatura ambiente e resistono bene al calore sono presenti nei grassi di origine animale come burro panna formaggi e carne grasse ma anche presenti in grassi di origine vegetale come nell'olio di palma e nell'olio di cocco sono spesso presenti in biscotti confezionati o snack salati come anche le patatine in sacchetto soprattutto l'olio di palma per molto tempo proprio i grassi saturi sono stati accusati di favorire il colesterolo cattivo nonché l'insorgenza di malattie cardiovascolari ma sono comunque indispensabili per il nostro organismo in quanto fonte di energia vitamine e contribuiscono anche alla formazione delle membrane cellulari come tutti i grassi se consumati da soli non solo non causano problemi ma anzi sono salutari il problema invece insorge quando vengono associati ad altri fattori quali innanzitutto un'alimentazione ricca di carboidrati un altro fattore da tenere in considerazione è la proporzione tra gli omega 6 e gli omega 3 che spesso viene che spesso risulta squilibrata passiamo quindi a parlare degli acidi grassi insaturi questi si suddividono in tre categorie gli omega 3 gli omega 6 e gli omega 9 gli omega 3 sono quelli da preferire in quanto consistono in acidi grassi che vengono considerati essenziali proprio perché il nostro corpo non può produrli da solo e quindi devono essere introdotti con l'alimentazione si trovano nei pesci grassi come tonno salmone sgombro sardine e in alcuni oli come quelli di colza di lino e di noce poi lì si trova ovviamente anche nei semi di chia di lino e canapa ma anche in alcune verdure pensate voi come il crescione la valeriana e il cavolo sono da prediligere proprio perché svolgono un ruolo fondamentale in quanto contribuiscono allo sviluppo del cervello dei muscoli e delle ossa sono anche alleati indispensabili nel ridurre l'insorgenza di malattie cardiovascolari e proteggono il sistema immunitario purtroppo considerate che consumiamo in media non più del 30 per cento circa dell'apporto consigliato di omega 3 infatti si tendono a consumare più omega 6 che invece sarebbero da limitare anche se sono sì acidi grassi definiti essenziali proprio perché l'organismo non è in grado di sintetizzarli a partire dai grassi che consumiamo gli alimenti più ricchi di omega 6 sono la carne le uova il burro il formaggio le noci e alcuni oli come ad esempio quello di girasole di canapa di vinaccioli di soia e di mais se ne trovano anche scusate divento rauca se ne trovano anche in grandi quantità in diversi prodotti trasformati come biscotti patatine in sacchetto piatti pronti eccetera 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 pur essendo grassi indispensabili coinvolti in numerose funzioni quali la riproduzione le difese immunitarie e lo sviluppo cerebrale il consumo eccessivo di omega 6 come di altri grassi saturi rispetto alle proprie esigenze aumenta il rischio di malattie cardiovascolari se si fa un piccolo calcolo si può facilmente intuire come il consumo di omega 6 è particolarmente sbilanciato rispetto al consumo di omega 3 come sapere la giusta proporzione dei due vi starete chiedendo ve lo dico io il consumo di omega 6 dovrebbe essere al massimo di 5 volte superiore a quello di omega 3 in realtà però se ne consumano da 10 a 15 volte di più se non oltre inoltre l'eccesso di omega 6 nuoce il metabolismo degli omega 3 quindi diventa anche controproducente nell'altro verso la concorrenza tra i due infatti impedisce agli omega 3 di svolgere il proprio ruolo correttamente questo squilibrio contribuisce allo sviluppo di malattie cardiovascolari passiamo invece agli omega 9 che si sente nominarli veramente poco sono acidi grassi che il nostro organismo è in grado di produrre da solo partendo dai grassi saturi che consumiamo e sono presenti in alcuni elementi sono abbondanti nell'olio d'oliva nell'olio di nocciola nell'avocado nelle nocciole e nelle mandorle i grassi animali come carne formaggio burro apportano anche omega 9 di buona qualità ma contengono anche molti acidi grassi saturi e omega 6 gli omega 9 hanno un ruolo importante nella prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari fortunatamente siamo raramente carenti di omega 9 in quanto sono presenti in molti alimenti e il nostro organismo poi è in grado di fabbricarli partendo da altre fonti di dipidi possiamo invece parlare dei grassi definiti trans la maggior parte di questi sono ottenuti attraverso un processo industriale di idrogenazione degli acidi grassi insaturi l'idrogenazione è proprio una reazione chimica che consiste nell'aggiungere molecole di idrogeno al composto iniziale questo processo viene fatto perché consente di modificare la struttura molecolare degli acidi grassi per renderla più stabile e aumentare il tempo di conservazione degli alimenti sono presenti quindi molti prodotti industriali in cui i grassi di origine vegetale sono stati solidificati mediante idrogenazione si parla di piatti pronti prodotti da forno biscotti confezionati pasta frolla brise industriale alcune margarine pizze surgelate snack per aperitivi creme spalmabili barrette di cereali eccetera 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 purtroppo è difficile conoscerne il contenuto negli alimenti perché la legislazione europea non impone di dichiararli ma sono proprio questi che andrebbero evitati il più possibile in quanto aumentano esponenzialmente il rischio di malattie cardiovascolari quindi la risposta alla domanda è meglio un burro di buona qualità o la margarina è facilmente comprensibile il problema quindi non è l'evitare il consumo di grassi ma di quelli non buoni e dannosi per la salute scegliendo consapevolmente leggendo sempre le etichette un apporto equilibrato di grassi svolge infatti un ruolo indispensabile per la salute e non causa alcun aumento di peso poi ricordiamoci comunque che a prescindere bisogna sempre considerare anche il deficit calorico le calorie non sono l'unica causa dell'ingrassare ma comunque hanno un loro valore poi nel primo video qui andatevelo a vedere avevo anche accennato all'infiammazione come causa del non dimagrimento vi do qualche input per capire se anche il vostro organismo è infiammato bruciore acidità di stomaco riflusso bisogno costante di smangiucchiare fame eccessiva la sera soprattutto rotolini di grasso a livello addominale che risulta prominente e che non si riesce a smaltire impossibilità a perdere peso nonostante si sia dieta insonnia e difficoltà a prendere sonno oltre a risvegli notturni soprattutto tra le 2 e le 3 del mattino poi si parla di mal di testa disturbi articolari come artrite o artrosi candida cistiti ricidivanti alitosi bocca amara pesantezza e nausa avete preso il block notice per segnarvele tutte muco e disturbi di natura allergica fino anche a soffrire di intolleranza o allergia al nickel si parla anche di pressione alta di diabete di disturbi della tiroide sindrome metabolica disturbi del ciclo infertilità maschile femminile menopausa problematica stanchezza al mattina e difficoltà poi a placarsi la sera sensazione di sentirsi un po' in trappola con uno stress eccessivo che si fa fatica a gestire ma anche ci sono casi in cui si parla di stato depressivo di stato ansioso eventuali attacchi di panico forte agitazione nervosismo la naturopatia in tal senso può essere un valido aiuto per detossinare il corpo e poi riportarlo anche ad uno stato di equilibrio quindi se siete in sovrappese non riuscite a perdere peso magari affidatevi alla natura e mangiate prodotti non light e comunque grassi di buona qualità e per qualsiasi informazione potete contattarmi oppure anche lasciarmi un commento e e darmi la vostra esperienza spero con questo secondo video di esservi stata d'aiuto se vi è piaciuto lasciate like lasciatemi un vostro commento per sapere anche voi cosa pensate e per avere un confronto che come dico sempre proprio dal confronto che si evolve se non l'avete già fatto iscrivetevi al mio canale e se avete amici o parenti ditelo anche a loro che anche loro si iscrivano al mio canale con questa ho concluso e ci vediamo alla prossima